L'intelligenza artificiale veramente in futuro ruberà il lavoro agli esseri umani? È plausibile l'ipotesi che le aziende possano cominciare a lasciare a casa i dipendenti a favore di macchine intelligenti che lavorano in autonomia, H24 e gratuitamente? Negli ultimi anni l'EAI, che sarebbe l'abbreviazione di intelligenza artificiale, ha fatto veramente passi da gigante. C'è GPT risulta da oggi una delle invenzioni più sorprendenti della storia. Infatti non è un caso se ha raggiunto il milione di utenti attivi nel giro di circa 5 giorni, più veloce di qualsiasi altro servizio che sia mai stato creato. Questo tool ti può scrivere poesie, ti può scrivere ricette, può suggerirti delle idee per una campagna di marketing che sono geniali, può anche riassumerti testi molto lunghi, complessi e scientifici con il linguaggio di un bambino e tanto altro ancora, una vera e propria potenza. Se l'hai provato avrai già capito quanto sia potente. Ora è in moto un dibattito che sta scervellando economisti da tutto il mondo. Quale sarà l'impatto delle AI sul futuro del mondo del lavoro e soprattutto sulla nostra economia? Siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale oppure ad un vaso di Pandora pronto ad esplodere? Non possiamo negare che negli ultimi tempi sono nate tante preoccupazioni in merito a questo argomento. Le preoccupazioni sono arrivate a un punto tale che Elon Musk insieme a migliaia di imprenditori e accademici a livello mondiale hanno firmato una petizione dove invitano le start-up che sviluppano sistemi AI come c'è GPT di fermare il tutto per almeno sei mesi per mettere in moto delle regolamentazioni e per evitare sconvolgimenti epocali. L'intelligenza artificiale non preoccupa solo i lavoratori che temono di perdere il proprio lavoro, ma preoccupa anche gli insegnanti delle scuole. Oggi grazie a CGPT gli studenti possono scriversi la tesina oppure possono farsi i compiti a casa nel giro di pochi minuti e soprattutto senza destare alcun sospetto. È chiaro che se l'insegnante vede il testo, poi fa delle domande allo studente cercando di capire se l'abbia scritto lui oppure una macchina, lì becca subito lo studente se non sa come rispondere. Tuttavia un altro problema che preoccupa assai è la disinformazione che le AI alimenta. Hanno fatto scalpore le immagini del Papa che indossa un piumino Balenciaga, molto bello, di colore bianco, oppure quelle di Bill Gates che è diventato povero da un giorno all'altro. Ecco queste foto per quanto realistiche possano sembrare sono frutto di un'intelligenza artificiale, non sono foto reali, sono fake. In realtà la tecnologia è ottima perché può risolvere una miriade di problemi nella società, tuttavia se viene messa nelle mani di persone sbagliate può creare un sacco di danni. Quindi è per questa ragione che imprenditori molto grossi stanno chiedendo delle regolamentazioni per poter limitare questi danni. Ma adesso ragazzi arriviamo a parlare dunque dei rischi per il futuro del mondo del lavoro con l'intelligenza artificiale che oggigiorno sta dominando i mercati. Secondo la banca di investimento Goldman Sachs, entro il 2030 circa 300 milioni di posti di lavoro rischiano di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Qui ne parliamo in pratica di un'attività lavorativa su quattro in Europa e negli Stati Uniti. Ma quali sono i lavori più a rischio nel vecchio continente? Sì, in questa lista ci sono persino i medici. Infatti le hai in grado di analizzare una mole enorme di dati, quindi può fare delle diagnosi, può suggerire trattamenti ai pazienti e può monitorare i pazienti in maniera efficace, veloce e anche precisa. Certo, io non sono d'accordo assolutamente che una macchina possa essere più affidabile di un dottore con un'esperienza trentennale. Tuttavia, molti studiosi affermano questo, che le macchine possono essere addirittura migliori dei dottori umani. Quindi, se lo dicono loro, anche se non ci fidiamo, dobbiamo ascoltarli da un certo punto di vista. Comunque, in linea di massima, possiamo dire che i lavori più a rischio sono quelli ripetitivi, che richiedono poca creatività e interazione umana. D'altro canto, i lavori che più difficilmente verrebbero rimpiazzati sono quelli che richiedono creatività, adattabilità, problem solving e manualità. Un esempio è l'artigiano, lo psicologo, l'ingegnere, il terapista, il manutentore specializzato, lo scienziato e così via. Ma per quale ragione, secondo me, la situazione non è poi così tanto catastrofica come la fanno sembrare? Abbiamo detto quindi che le stime suggeriscono che entro il 2030 circa 300 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, tanti altri studi suggeriscono che nei prossimi anni il PIL mondiale potrebbe crescere del 7% e l'intelligenza artificiale e l'integrazione delle AI nell'economia potrebbe creare altrettante opportunità di lavoro. In realtà, l'automazione non è che distrugga posti di lavoro, ma invece li trasforma e ne crea dei nuovi. L'intelligenza artificiale in futuro tenderà a cambiare le mansioni e soprattutto a cambiare le competenze richieste ai dipendenti per svolgere quelle mansioni. Nel 1700 praticamente tutti i lavoratori erano agricoltori, facevano quello di lavoro. Ma col passare dei secoli e con il susseguirsi di tre rivoluzioni industriali, questa percentuale si ridotta all'osso e oggi costituisce solo una minima parte della forza lavoro. Nonostante ciò, negli ultimi anni la disoccupazione mondiale è scesa e anche parecchio. Quindi, in futuro, sono sicuro che il lavoro non mancherà. Perché senza lavoro non guadagniamo, senza un guadagno non possiamo spendere e senza spendere non ci sono i consumi e senza consumi l'economia si ferma. Jack Ma, che sarebbe il fondatore di Alibaba, ha detto una frase che mi ha fatto riflettere parecchio. Ha detto questo, l'intelligenza artificiale non ruberà il tuo lavoro, ma lo farà chi saprà utilizzarla per svolgere il proprio lavoro, chi saprà usarla meglio di te. Questa frase fa capire come in futuro nasceranno tante opportunità di lavoro proprio nel campo dell'EI. Oggigiorno tantissime aziende si stanno appoggiando piano piano a sistemi AI, come già GPT, per aumentare la propria produttività e per diventare più competitive. Ma stanno al contempo assumendo anche nuovo personale, nuovi esperti che siano in grado di supervisionare l'operato di queste macchine al meglio. E questo, ragazzi, è tutto. Voi siete per caso spaventati da questa evoluzione che oggi è in moto? Siete veramente preoccupati che in futuro l'EI possa sostituire il vostro lavoro e possa rimpiazzarvi? Oppure siete flessibili e capite che in futuro le competenze che magari oggi valgono potrebbero valere molto meno e quindi per mantenere il proprio lavoro bisognerà evolversi dal punto di vista delle competenze in linea con l'evoluzione tecnologica. La seconda opzione è sicuramente più plausibile. Quindi ragazzi, grazie per la visione, io vi saluto e vi mando un grande abbraccio. Alla prossima e ci vediamo. Ciao!